Tornerà la voglia di correre, se senti così potremmo essere protagonisti di qualsiasi film. Tornerò io, tornerai, cambieranno le mode, le canzoni d'estate, ma io sarò la stessa. Tornerà questa voglia di correre, se mi guardi così potremmo essere la prima fila dell'ultimo film. Amici di Accenacon, buonasera, ben ritrovati. Siamo alla zattera di Pescara in compagnia del capitano Vincenzo Fiorillo. Ciao Vincenzo, ciao, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Vincenzo, con te l'anno scorso avevo un po' raccontato tutto su Vincenzo Fiorillo, quindi vorrei soffermarmi questa sera su alcune tematiche particolari. È chiaro che tu sei il capitano del Pescara, quindi ti volevo chiedere un po' come stai vivendo questo rapporto di odio-amore che c'è con la tifoseria. Nel senso che la squadra è nel cuore e nei cori, la società invece non è apprezzata. Tu da capitano come lo vivi? Ma io ormai questa situazione non è la prima volta che capita in questi ultimi anni. Purtroppo da un lato mi dispiace perché comunque questo clima fa sì che a volte non ci sia un'atmosfera idilliaca allo stadio, però noi come squadra non possiamo lamentarci però del supporto che ci viene dato durante le partite. Dal punto di vista, cioè da capitano invece ti senti di dire qualcosa ai tifosi per la società? Ma da capitano l'unica cosa che mi sento di dire è che adesso arriveranno tre mesi importantissimi e forse sarebbe intelligente da parte di tutti provare a sospendere un attimo i giudizi e rimandarli magari solamente a fine maggio. Non sto dicendo che siano giuste o sbagliate i pensieri o le opinioni dei tifosi perché in tutte le piazze del mondo i tifosi sono i primi a esprimere le loro sensazioni che siano buone o no. Quello che posso dire io come capitano della squadra è che forse in questo momento qua della stagione dove ripeto arriveranno comunque tre mesi, partirei dal primo mese adesso fondamentale per capire poi il tipo di obiettivo che si andrà a delineare, magari tirare i giudizi alla fine dell'anno che se poi saranno negativi andranno incassati senza ovviamente controbattere però in questo momento abbiamo realmente bisogno di stare uniti. Messaggio chiaro e preciso Vincenzo, io vedo che tu stai guardando questi piatti che ci hanno portato qui al ristorante La Zattera di Pescara, manca ancora un po' poi le assaggeremo insieme. Intanto saluto e ringrazio Alberto Capo alla telecamera e cura anche il montaggio di questa trasmissione. Vincenzo, non è stata una stagione facile per te quella che stiamo vivendo perché hai avuto un infortunio molto serio nella partita con il Benevento, se non ricordo male e ti ha costretto a un lungo stop. Come l'hai vissuta? Devo ammettere che fino a quel momento lì, ma anche dopo il mio rientro, sono riuscito comunque a fornire delle prestazioni più che buone. È stato difficile stare due mesi fuori ma soprattutto è stato difficile tornare velocemente al 100% per il tipo di infortunio che ho subito, però devo ammettere che con un bel po' di impegno sono riuscito a essere pronto prima della fine dell'anno e comunque sono riuscito a dare una mano ai miei compagni nonostante una frattura alla mano non sia una cosa da poco. Prima Zauri, poi le grottaglie. Come l'hai vissuta Vincenzo? Da capitano? Con Mr. Zauri comunque abbiamo fatto la maggior parte dei punti che abbiamo adesso quindi non siamo stati forse forti a trovare un'identità di gioco precisa ma questa non è solo responsabilità dell'allenatore. È ovvio che può incidere tanto. Con le grottaglie invece quello che più mi viene in mente è che si è creato un grande feeling tra lui e la squadra. Abbiamo avuto l'impressione di avere davanti non un mister alle prime esperienze e questa è stata una cosa molto importante per il nostro momento bensì uno staff preparato. Te ne accorgi e di questo sono molto contento. Sono convinto che lui potrà tirare fuori il massimo da questa rosa qui. Vincenzo, in una delle ultime partite, mi viene da pensare quella con il Cittadella, c'è stata una grande polemica da parte dei dirigenti, anche da parte di Nicola Legrottaglie, sull'operato del direttore di gara, sempre da capitano. Io credo che non voglio fare polemiche esagerate però sono sempre molto onesto e quest'anno al Pescara, soprattutto in casa, qualche giudizio arbitrario ha pesato nel nostro cammino, nel senso che mi viene in mente il gol di ginocchio ha annullato a Brunori. Anche se poi abbiamo vinto l'espulsione, la doppia munizione nel giro di così breve tempo di Palmiero con il Cosenza in casa, ci sono stati un altro episodio forse che qualcuno non si ricorda, ma la punizione della Cremonese dell'1-1 nasce da un fallo non dato per noi e questi sono punti che alla fine, è vero che non bisogna avere l'aribi dell'arbitro, però oggi ti potevi trovare a commentare magari con due, tre, quattro punti in più un altro tipo di classifica che cambia la visione di tante cose e credo che purtroppo ultimamente allo stadio adriatico, prima il fattore adriatico era un po' più temuto ecco dai direttori di gara, mentre adesso credo che quest'anno siamo un po' in debito. Mi viene anche da pensare, per raggiungere a quello che dici tu Vincenzo, la partita con il Cittadella, prima del rigore decisivo di Iori c'è stato un brutto fallo di Durso, proprio qualche minuto prima che era da secondo giallo plateale, evidente. Sì, c'era un'altra espulsione anche per il Cittadella, questi sono episodi che non mi viene da pensare male, però li sommo ad oggi che siamo al girone di ritorno e non sono pochi. Vincenzo, tu hai sempre detto le interviste, non solo a noi, io mi sento, ho Pescara nel cuore, mi vedo tanti anni a Pescara, gli anni passati non ne parliamo più perché l'abbiamo detto tante volte, rifiutato proposte importanti anche per giocare l'Europa League, è un pensiero che è sempre, sì, Pescara nel cuore. Sì, quello sì, grazie a Dio, la cosa bella del mio attaccamento a Pescara, l'ho già detto altre volte, è un attaccamento che non nasce nei momenti di grandi vittorie o festa, quindi anche nei momenti difficili questa cosa non è cambiata ed è per questo che per me l'attaccamento che io ho a questa squadra non cambia in base al tipo di prestazioni che sto fornendo io, al tipo di simpatia che ho io, che la tifoseria può nutrire in me in base a come sto giocando. Per me l'attaccamento al Pescara è una cosa incondizionata, l'ho dimostrato anche quando non scendevo mai in campo, quindi posso dirlo in maniera onesta e sincera, è un amore che non ha secondi fini o della ruffianaggine. Queste sono parole molto belle, Vincenzo, ti senti già di dire Pescara tanti altri anni? Sì, finché non mi cacciano vorrei rimanere qua per tantissimo, sarei felicissimo io, sarebbe compagni ai nostri figli che sono anche loro i primi tifosi del Pescara. Perché abbiamo fatto questo sorriso io e te Vincenzo mentre dicevi questo? Perché si è incuneato il nostro leader cristiano del grosso, in un bel fuorionda, ma questo non cancella il significato delle parole importanti che hai appena detto. Ufficialmente quanti altri anni di contratto hai? Due. Solo una formalità, saranno di più. Non lo so, spero di sì, ma non è questo un problema, vedremo quando si avvicinerà la fine del contratto, da parte mia non credo ci possano essere dei problemi, quindi da oggi a quel giorno lì c'è ancora tanta strada a fare e spero di poterla fare nel migliore dei modi. Ti è mai passato per la mente in questi anni Vincenzo di dire forse è finita la mia esperienza a Pescara? Un flash, un episodio negativo, hai quasi perso la pazienza? Devo dirti la verità, dopo la retrocessione della Serie A ero convinto che il Pescara puntasse su di me per il campionato di Serie B, ma quell'estate mi fu comunicato che probabilmente non sarei stata una prima scelta, ma ci rimasi male perché comunque non avevo avuto molto spazio in Serie A, quelle poche partite seppur con una retrocessione già in tasca non le avevo fatte male, poteva essere un buon allenamento in virtù della stagione dopo, ma niente, mi era stato comunicato che non sarei stata la prima scelta e per rispetto la società mi aveva anche detto che se non fossi voluto rimanere a fare il secondo mi avrebbero capito, ma io gli ho detto che per me non c'erano problemi, che mi sarei giocato il posto sul campo sapendo che comunque Zeman è una persona che non preclude niente a nessuno e alla fine ho avuto ragione perché dopo nemmeno un paio di mesi ero diventato titolare. Vincenzo siamo quasi in chiusura, ti chiedo, so che non è bello ricordarlo, però se hai un flash di quella partita con il Verona dell'anno scorso, siete arrivati a una traversa scheggiata di Bellini dalla Serie A. Ci penso spesso, sì, ci penso spesso perché ho spesso in mente l'immagine del rigore e purtroppo mi ha fatto male, dico la verità, perché sarebbe stato davvero un coronamento di un sogno vincere due campionati con il Pescara e fare la terza finale playoff in così pochi anni era uno di quegli obiettivi che mi ero prefissato perché mi sarebbe piaciuto poi un domani essere uno di quei giocatori con più spareggi, con più finali playoff o con più promozioni con questa maglia, siccome ci tenevo molto però sono sicuro che, come ho detto già in altre interviste, a volte anche se vengo preso un po' per matto, ma prima o poi sono sicuro che riaccadrà. Io mi auguro che tu possa centrare presto questo sogno che è nel cuore, no? È un sogno, sì, un sogno che è nel cuore. Vincenzo, ti chiedo l'ultima cosa, ti chiedo, il momento, diciamo così, più bello da quando hai la maglia del Pescara, da quando vesti la maglia del Pescara, un momento che tu un domani tra 10, 20, 30 anni non dimenticherai mai? Ce ne sono, ci sono due o tre momenti che non mi dimenticherò mai. Uno era lo spareggio di Perugia del playoff del primo anno dove vinto i supplementari, noi quell'anno lì entrammo all'ultimo negli spareggi dopo un campionato difficile e veramente quell'anno lì è stata anche lì una delusione perché avevamo disputato dei playoff fantastici, meritavamo noi di andare in Serie A, poi per la classifica ovviamente al Bologna erano abbastati due pareggi. E anche qualche traversa di troppo al Bologna. E tante occasioni da rete di quella partita sono tantissime, ce le ho ancora ben in mente tutte. Il momento veramente che ho nel cuore, che non dimenticherò mai, è vedere Corso Umberto, Piazza Sacro Cuore, il palco dopo la finale di Trapani. Finita la festa, mi ricordo che io abitavo in centro e non riuscivo a tornare più a casa a piedi. Da quanta gente c'era, ero frastornato da quei giorni. Il sogno più grande sarebbe rivivere quelle emozioni di quei due o tre giorni dopo la partita col Trapani. Siamo in chiusura Vincenzo, un flash te lo ricordo anch'io. Tu che hai pensato quando hai visto il gol di Verre, Verre che correva verso di te a Trapani? Ma io posso dire forse di aver avuto una delle inquadrature migliori di quel gol, perché io ero in linea d'aria 50 metri dietro Verre, ma perfettamente dietro di lui e non ci credevo nemmeno io, perché ho visto da dietro l'effetto che quella palla aveva preso. Uno dei gol più belli che ho visto in assoluto e più importante da quando sono qua. Ricordo la gioia incredibile, ma ricordo anche che la mia testa era proiettata agli ultimi minuti a non subire gol. Quindi io fino al triplice fischio onestamente non l'ho goduto il gol di Verre. Mi ricordo solo che quei quindici minuti dal trentesimo al quarantacinquesimo del secondo tempo sono stati i più lunghi della mia vita, ma avevamo resistito a un assalto a un certo punto. Mi ricordo che non giocavamo più la partita, stavamo davanti all'area di rigore a far passare il tempo e calcevamo la palla nello spazio aspettando questi tre fischi. Vincenzo, ti ringrazio per questa piacevole chiacchierata. Facciamo un brindisi così magari un in bocca al lupo affinché tu possa realizzare il tuo il tuo sogno. Grazie ad Alberto Capo alla telecamera, grazie al ristorante La Zattera di Pescara che ci ha ospitato. Ora io e Vincenzo assaggiamo questi splendidi piatti, noi invece ci vediamo la prossima settimana sempre a cena conne. Ciao! Tornerà la voglia di correre, se stigi così potremmo essere protagonisti di qualsiasi film Tornerò io, tornerai, cambieranno le mode, le canzoni d'estate, ma io sarò la stessa. Tornerà questa voglia di correre, se mi guardi così potremmo essere la prima fila dell'ultimo film.